Ci siamo, pronti? Pronti? Vai! Noi vogliamo rifare lo Stato italiano, fatto da cittadini, questo è il movimento. Il voto palese rappresenta una garanzia per i cittadini italiani. Ogni cittadino saprà come i propri rappresentanti hanno votato, è una gran bella vittoria. Spero di non fare più questa esperienza, la prossima volta vi mando a Casaleggio, vediamo che fine farà lui, vi abbraccio.